Una battaglia lunga oltre tre mesi, 93 giorni della sua vita nei reparti Covid, di malattie infettive, terapia intensiva, pneumologia e unità di recupero e rieducazione funzionale. Ma adesso finalmente Fabrizia ha avuto la meglio e ha sconfitto il virus. La donna, 62 anni, affetta dalla sindrome di Down, è una delle ultime pazienti che ha lasciato l'adegenza Covid dell'ospedale San Donato. Vive assieme alla sorella Cinzia che racconta adesso la sua storia perché lei non può farlo. All'inizio dell'emergenza Covid ci siamo trasferiti per maggior prudenza in campagna, racconta Cinzia. Tutto inutile, Fabrizia, assieme all'intera famiglia, è stata contagiata dal Covid. Il 23 marzo, assieme alla sorella, viene così ricoverata nell'adegenza Covid di malattie infettive. La mia preoccupazione era immensa, ricorda la sorella, un ambiente sconosciuto, una sala molto grande con persone coperte da mascherine e visiere. Io ero comunque vicina a lei, ma le sue condizioni si sono aggravate, lei non accettava né casco né posizione prona. L'equip, diretta dalla Nilo Tacconi, ha fatto tutto quanto era possibile e mi riferisco non solo alle cure, ma anche all'atteggiamento gentile ed affettuoso. Nonostante questo, le condizioni di Fabrizia si sono aggravate, quindi il trasferimento in terapia intensiva, dove è rimasta sino al 27 aprile, quando è stata trasferita nel terzo polo dell'adegenza Covid, quello di pneumologia. Qui, grazie alla grande competenza e attenzione ricevuta da tutto il personale, racconta Cinzia, le sue condizioni sono progressivamente migliorate, fino a consentirle il 31 maggio di passare al reparto di recupero e rieducazione funzionale, dove gli operatori hanno accompagnato Fabrizia nella sua ripresa sino a rimetterla in piedi e camminare, tanto che il 26 giugno è stato possibile abbandonare l'ospedale e tornare finalmente a casa. Il ringraziamento, conclude la sorella Cinzia, a tutti coloro che hanno avuto cura di mia sorella non è retorica, sono consapevole che Fabrizia non è stata una ricoverata come le altre.